Siamo in una casa piccola ma riccamente decorata di Pompei e lo scavo dell'altare domestico, dell'arario di questa casa richiede come spesso la collaborazione di vari specialisti, abbiamo qui archeologi, restauratori, archeobotanici per comprendere esattamente lo svolgimento del rituale dell'ultimo sacrificio prima dell'eruzione. Ci sono ancora i resti bruciati di questo rituale, cioè il coltello che veniva utilizzato, ma anche uno scavo che si svolge sotto gli occhi del pubblico, che può accedere sopra, ci sono delle passerelle sospese, tutti i giorni potete venire, osservare quello che spesso si svolge dietro le quinte, cioè l'enorme lavoro di archeologi, restauratori, architetti qui a Pompei ma in maniera simile anche in molti altri luoghi dell'Italia.